Due, due, via! Il primo tratto l'hai fatto proprio qua. Ora è andato qua perché credevo che devo girare a sinistra. Si è andato a palla nel tratto più difficile. Si è andato un po' più lento nel tratto veloce. Ma nel primo tratto mi hai messo quasi in difficoltà. A cui si cammina questa bicetta? È un animale. È impressionante come hai fatto quelle pietre. Si vede, si vede. Tu devi camminare come ti piace. No, vedi? Dobbiamo prendere quella traccia e girare a sinistra. Tu devi passare una telefonata e tieni. Scusami, qua a destra. A destra e poi subito a sinistra. Vedi che di solito ci sono le fettucce perché questo è un tratto incisicci. è. Grazie 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 Grande tipo Grande Grazie Guarda 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 Mimmo Mimmo peccato che la telecamera sta puntata dietro Ti facevo variare Come a che Mimmo aspetta a girare questa telecamera Mannaggia Non ho come metterla Perché questa è da reggisella Qua sto variando Non hai idea di quello che hai fatto Come stai scapezzando Sì ti ho visto Però stai facendo un movimento col posteriore Che faccio fatica a capire Cioè tieni presente quando Quei grossisti saltano E mettono la ruota così Tu salti e ti metti con la ruota di traverso Di poco Non come fanno loro ovviamente Ma lo fai Pensa che un paio di volte Stacarello lo fa apposta Bellissimo Ho visto qualcosa di molto bello Stiamo avviare Ah no questo qua è Tranquillo qua Prima eltro Non c'è Con un po' più zero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Troppo bello. Non le ho prese. No, non le ho prese, non scherzate.